Ehi, tutto a posto? Ti senti bene? Non lo so, ti vedo un pochino in sovra pensiero, proprio stanco, stanca. È successo qualcosa di particolare? No? Sicuro? Sicura? Ok. Sai cosa c'è? Adesso io sono qua davanti a te e proverò un pochino a liberarti di questi pensieri che, non lo so, secondo me ti fanno proprio apparire sofferente, diciamo. Tu non ti preoccupare, non fare nulla, casomai indosso un paio di conflette o auricolari, però adesso puoi chiudere gli occhi, quindi mi raccomando chiudi gli occhi, ok? Chiudi gli occhi e cerca di apprezzare questa esperienza. Ti chiedo scusa se senti di sottofondo come dei rumori di goccioline, ma fuori sta, sta diluviando, quindi si sente un pochino questo suono. Ok? Ok. Allora, cosa farò? provo a prendere qui un piccolo pensiero. Nella durata di questo video penso che alternerò un po' questa rimozione di pensieri, oppure semplicemente sto provando un attimino a svuotarti la testa da, appunto, queste cose qua. Questi piccoli trigger che però non ti fanno stare bene, ecco. Ok, provo a prenderne un altro. secco. Tu ti senti meglio? Lo so che siamo solo all'inizio, non ti preoccupare. Per qualunque cosa ti serve, dimmelo pure. Ho comprato un nuovissimo cuscino, perciò se ti viene voglia di stenderti perché, non lo so, ti fa un po' male la testa. Stenditi pure, va bene, me lo dici? Ok. Vado avanti allora. Chiudi gli occhi. Preso. Questo è molto pesante. secco. Che dici? Tutto ok? Mi dispiace proprio per il suono della pioggia che potrebbe un po' rovinare, non lo so, tutto quanto. Però è proprio bella, non lo so, secondo me, la sensazione di stare a casa con le finestre chiuse quando fuori piove tanto. Non lo so, secondo me è davvero, davvero, davvero rilassante immaginarsi questa scena e anche viverla perché non è poi così difficile. Ok. Ok, ok, ok. Adesso lo prendo di qua. Preso. Subito, subito, subito. subito, 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 subito. Uff, subito, subito, subito. tre e ventiquattro, ventiquattro di domenica, quattro dicembre. Domenica, quattro dicembre. A quest'ora tutti dormono, perciò possiamo approfittare di questo poco silenzio. Ok? Ok. Allora, prendo un altro pensiero. Così. Che bello. Zacca. Ok. Ne prendiamo subito un altro qua. Ok. 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 Zacca. zack Suck Suck Ma diciamoci qualcosina Intanto ti prendo i pensieri Ti faccio parlare un po' così Ti concentri sulle risposte da darmi Allora, come ho detto prima, è il 4 dicembre oggi Quindi è iniziato ufficialmente Il mese di dicembre ovvero il mese del Natale Perciò hai già decorato tutta casa? Suck Ci sta? Mi piace, mi piace tanto Anche i colori che hai scelto Sì, sono veramente belli Io attualmente non ancora Ma penso che lo farò a breve Nel giro di qualche giorno Invece hai comprato dei calendari dell'avvento Non lo so, particolari Che magari volevi proprio quest'anno Che bello dai, mi sa che forse l'ho pure visto Io ho preso quello della Yankee Cattle Però quello di mezzo Quello da 50 euro Perché quello da 100 era troppo E quello da 30 l'avevo già preso l'anno scorso Ma non mi aveva soddisfatto tanto Perciò ho pensato che quello di mezzo fosse perfetto Secondo me è bello Però, appunto, siamo solo all'inizio Perciò 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 Dai, un regalo che proprio ti piacerebbe ricevere a Natale, quale potrebbe essere? Beh, bello dai, poi da quel che ho capito, quindi sai già che te lo regalano, sì, ormai si è persa un po', diciamo, la magia del Natale, ma si fa una lista di regali e si spediscono i vari parenti, quindi sanno tutti cosa comprarti e tu sai già cosa ricevi, però da un lato è meglio così, almeno puoi usare tutto effettivamente, non, diciamo, non si spreca nulla. Ok, ancora un pochino, ne prendo 5 altri di qua, proprio 15 altri, così, così. Ok, dai, adesso però ti senti un po' meglio. Abbiamo tolto un bel po' di pensieri, non ho tenuto il conto, però, erano tanti, dai. Ne prendo un altro qua. E niente, dai un'altra domandina che posso farti. Che tipo di sogni fai di solito? Non lo so, hai fatto sogni che ti sono piaciuti tanto, alcuni un po' strani? Non lo so, tu gli dai un significato? Rappai così, dimmi tutto quello che vuoi. Vabbè dai, interessante. Cioè, a me piace, ci sta, davvero, davvero carino. Prendo un ultimo pensiero. Cioè, ci sta, a me piacciono i sogni che faccio quasi sempre. A parte, appunto, qualche sogno strano, dove non lo so, mi ritrovo nel bel mezzo dell'oceano e come ci sono arrivato? Come torno indietro? C'è un po' così, però vabbè. E nulla, dai, io qua ho finito, ti ho tolto veramente tanti pensieri. Secondo me adesso ti sentirai molto leggero, molto leggera e magari riuscirai a fare i sogni ancora migliori. Però, vanno comunque bene i due. Quindi, non lo so. Adesso puoi proprio chiudere gli occhi e stenderti per dormire. Io sto ancora un attimino qua. E niente, ti auguro la buona notte. Spero che tu possa riprenderti presto. Sai che non mi piace vederti quando stai male. Ok? Quindi, non preoccuparti. Ti sorveglia. Buona notte. Chiudi gli occhi e bacio. Chiudi gli occhi. Buona notte, buona notte. Buona notte, buona notte. Buona notte, buona notte. Buona notte, buona notte. Buona notte.